Ok Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen Invochiamo lo Spirito che ci aiuti a cogliere il meglio di questo appuntamento e di rendere efficace il nostro ruolo di testimoni della fede Vieni Santo Spirito, illumina le nostre menti rendici docili alla tua volontà capaci di cogliere il vero bene per noi e per le persone che incontreremo Amen Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen Il Signore ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen Sul foglio che descrive la traccia dell'incontro di Giuseppe di questa sera trovate il titolo che campeggia in alto Dice Bellezza e piacere Cosa sono queste? Sono due categorie filosofiche? Sono oggettive? Sono soggettive? Sono delle condizioni? Cosa sono? Sono delle realtà che appartengono alla natura umana? Abbiamo chiesto a Giuseppe di provare a darci una lettura e una sua visione di queste due realtà perché credo che interessino fortemente tutti noi anche perché parlando di bellezza e piacere è inevitabile che noi facendo i paragoni con quella che è stata la nostra giovinezza rispetto a quello che adesso per noi è il ruolo di adulti con i ragazzi ci domandiamo che cos'è che piace ai nostri ragazzi che cos'è che è bello per loro perché molte volte non so voi ma a me capita di magari anche non capire perché siano belle o piacciono alcune cose ai ragazzi e questo questa distanza generazionale penso che sia un po' sempre esistita a me sembra se non vale dire una cavolata però che ancora Plinio il Vecchio stiamo parlando del primo secolo dopo Cristo che diceva che non ci sono più giovani una volta e quindi per dire che ogni volta c'è uno scatto generazionale che crea una sorta di distanza per certi versi per altri no perché siamo tutti accomunati dall'unica cosa quella di avere qualcuno che ci voglia bene qualcuno che vuole bene dopo tutto il resto è coreografia quindi domandarci domandarci che cosa è la bellezza e se sono davvero motori della vita la bellezza e il piacere credo che sia una cosa interessante allora lasciamo lo spazio grazie adesso Giuseppe per il suo intervento e poi come sempre potrebbe essere l'occasione per confrontarci per intervenire prego grazie buonasera a tutti io torno volentieri tra voi anche perché le altre volte mi sembra c'è stata una bella comunicazione anche in alcuni casi qualcuno ha raccolto la proposta di condividere qualche idea quindi spero che anche stasera possiamo condividere all'inizio la mia proposta e poi ci sia chi appunto dia una mano anche a me a mettere a fuoco qualche idea facendo osservazioni quindi dandomi riscontro anche in merito a quello che ho illustrato quindi ringrazio molto Don Davide che mi ha invitato a venire a incontrarvi e mi introduco subito dentro le parole iniziali che ha appena detto lui in effetti il tema della bellezza del piacere è un tema senz'altro strategico e quando noi avviciniamo i ragazzi ci rendiamo subito conto di quanto questo tema sia importante per loro come lo è stato e continua ad esserlo anche per noi contemporaneamente mi pare che noi ci rendiamo anche conto del fatto che rispetto ai riferimenti che abbiamo avvicinato le altre volte la verità la bontà il riferimento alla bellezza sembra un riferimento più difficile da identificare e sembra condurre ad una situazione in cui prevalgono nettamente i gusti di ciascuno per cui è facile fare l'esperienza che è una cosa bella per qualcuno non è bella per qualcun altro ora questo penso che sia vero però credo che non ci restituisca tutta la verità nel senso che noi comunque sentiamo il richiamo della bellezza e quindi questo vuol dire che al di là delle esperienze che ciascuno può fare e delle opinioni e dei sentimenti che ciascuno prova in maniera originale c'è qualcosa che ci accomuna e questo vale anche per il discorso del piacere cioè anche nel caso del piacere credo che non possiamo sciogliere tutto dentro esperienze del singolo individuali irripetibili eccetera perché tutti immediatamente riconosciamo che il piacere ci attira quindi vuol dire che al di là delle espressioni che può assumere e che certamente sono molteplici e rispetto alle quali è chiaro che ognuno di noi ha una sua particolare sensibilità però in quanto tale il piacere è importante allora vorrei adesso con voi a partire da una frase del Papa essenzialmente fare due considerazioni la prima che prende spunto proprio da questo passaggio di un suo discorso cercare di riflettere su che nesso c'è che rapporto c'è tra la Chiesa e la bellezza e da qui e quindi da questa parte iniziale che è più strettamente collegata all'esperienza cristiana e quindi anche al fatto che voi state facendo con i vostri figli il percorso dell'iniziazione portarci invece e sarà il secondo passaggio a confrontarci con un documento che risale a circa 24 secoli fa e che quindi è un documento senz'altro non di matrice cristiana è probabilmente la più antica storia morale dell'Occidente noi sappiamo che in tutte le civiltà le forme più antiche di educazione sono collegate a delle storie quella che vorrei leggere con voi dopo è una parte ridotta perché in sé per sé il racconto si prolunga molto di più di una storia che è solitamente chiamata la storia di Ercole al bivio nel senso che si immagina che Ercole l'eroe della forza fisica per eccellenza a un certo punto incroci due donne virtù e vizio che sono entrambi impegnate ad attirarlo a sé e allora vorrei con voi richiamare come queste due donne si rivolgono ad Ercole evidentemente il fatto che la storia sia maschile rispecchia semplicemente la misoginia dei greci però noi possiamo benissimo avvolgere la femminile non cambia niente nel senso che ci fosse anche una donna che si trova ad incontrare due uomini che la vogliono comunque attirare a sé l'uno essendo virtù e l'altro vizio sarebbe la stessa situazione ora vorrei con voi considerare un passaggio di come si avvicina ad Ercole virtù perché mi sembra darci un indizio per poter arrivare ed è il punto appunto conclusivo della chiacchierata a riconoscere quale potrebbe essere almeno questa è la proposta che vorrei condividere con voi poi vediamo come la pensate quale potrebbe essere un criterio per aiutare noi stessi e i nostri figli o comunque i più giovani che ci sono affidati e sono affidati le nostre cure educative un criterio che possa aiutare ad orientarsi rispetto al richiamo della bellezza e al richiamo del piacere evitando cioè che questa sia un'esperienza puramente stare per dire istintiva intuitiva non non riflessa è importante che noi riflettiamo e facciamo riflettere i più giovani perché il rischio e lo vediamo è che anche con le migliori intenzioni però poi possono capitare dei pasticci quando non dei problemi particolarmente rilevanti ecco perché vorrei concludere con voi condividendo un'ipotesi in merito ad un criterio che noi possiamo anche trasmettere ai più giovani i nostri figli ad altri per dire guarda che in realtà tu puoi valutare il richiamo della bellezza il richiamo del piacere che stai sentendo e che sentiamo tutti non semplicemente come un richiamo cieco ma come qualcosa rispetto a cui devi essere capaci di fare una scelta e di fare una scelta secondo un certo criterio che possa appunto permetterti di raggiungere la tua meta e la tua meta evidentemente qual è la nostra meta qual è è quella di arrivare ad esprimere tutta la bellezza di cui siamo portatori cioè arrivare ad esprimere il fatto che siamo un bene comincio allora leggendo con voi questa riga di un discorso del Papa che risale al 16 marzo 2013 quando il Papa dice la Chiesa esiste per comunicare proprio questo la verità la bontà la bellezza con le maiuscole in persona allora mi sembra una frase particolarmente incisiva il nostro Papa quando interviene ha una notevole capacità di comunicare e anche diciamo di scuotere rispetto ad alcuni luoghi comuni ora il fatto che lui ci dica la Chiesa esiste per farci incontrare far incontrare la verità la bontà e la bellezza in persona dice il richiamo a delle cose importanti ma il fatto che sia scritto con la maiuscola dice il richiamo a qualcosa di tutt'altro che banale perché la maiuscola dice questo nella nostra lingua è un modo per sottolineare un concetto in realtà e dire guarda che questa cosa non è da liquidare in maniera troppo disinvolta allora cominciamo a chiederci perché la Chiesa annuncia la bellezza in persona e la risposta che intendo dare a questa domanda è la seguente perché la Chiesa annuncia il buon pastore questo riferimento il buon pastore è riferimento a Cristo evidentemente è un riferimento che penso abbiamo abbastanza in mente ma adesso vorrei leggere con voi il passaggio del Vangelo secondo Giovanni in cui questa immagine è utilizzata per farvi cogliere come mai alla domanda di prima in che senso la Chiesa ci fa incontrare la verità la bontà e la bellezza in persona la risposta che suggerisco sia perché ci annuncia il buon pastore il brano del Vangelo dice io sono il buon pastore è Cristo che parla il buon pastore offre la vita per le pecore il mercenario invece dice che non è pastore e al quale le pecore non appartengono vede venire il lupo abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde egli è un mercenario e non gli importa nulla delle pecore io sono il buon pastore conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me come il padre conosce me io conosco il padre e offro la vita per le pecore ora è interessante notare che nel testo originale voi sapete che i Vangeli sono scritti in greco nel testo originale greco del Vangelo secondo Giovanni l'espressione buon pastore in realtà suona come bel pastore viene utilizzato l'aggettivo kalos che in greco vuol dire bello allora dove sta la bellezza di questo pastore che infatti nelle immagini delle catacombe viene raffigurato come un giovane un giovane che tiene appunto sulle spalle la pecore è un'immagine tipica delle catacombe soprattutto Roma ma non solo lì questo giovane che tiene sulle spalle la pecora è il buon pastore è anche il bel pastore perché è un giovane appunto è una figura nel pieno rigoglio e vigore della giovinezza ora a me sembra che ciò che rende bella questa figura di Cristo è la conclusione del brano che vi ho letto prima perché lui dice che essendo buon pastore offre la vita per le pecore cioè dove sta l'elemento che distingue questo pastore dagli altri lui offre la vita ora credo che questa immagine sia una delle immagini più vicine a quella che potremmo avere noi genitori interrogandoci su cosa voglia dire esprimere il massimo della bellezza nel rapporto con i nostri figli perché penso che nessuno di noi si tirerebbe indietro se fosse necessario dare la vita noi l'abbiamo già data ovviamente mettendoli al mondo ma credo che nessuno di noi si tirerebbe indietro se fosse indispensabile compiere il sacrificio estremo di dare la vita per i figli perché questi genitori l'hanno sempre fatto noi non saremmo eroi per questo saremmo semplicemente buoni genitori e per questa ragione daremmo una bella testimonianza di cosa vuol dire essere genitori allora penso che in quanto genitori noi possiamo intuire dove sta la bellezza di quello che dice il Vangelo nel dare la vita e perché il dare la vita esprime la bellezza nella sua forma più alta perché non saprei immaginare un gesto più grande tutti noi cogliamo immediatamente che dare la vita significa dare l'accesso alla cosa più grande che ci possa essere nel senso che l'alternativa che dare la morte significa annientare e rispetto al niente anche una cosa minima è enorme questo lo dico perché noi oggi alle volte rischiamo di cadere nell'equivoco che se non riusciamo a dare il massimo a livello di opportunità di vita a livello di consumi a livello di tutto quello che sappiamo non sarebbero dei buoni genitori è chiaro che noi dobbiamo dare il massimo di quello che possiamo ma se questo massimo fosse anche il minimo valutato in comparazione a quello che possono dare altri sarebbe comunque sempre il massimo rispetto al niente perché rispetto al niente il minimo è comunque enorme allora è fondamentale che noi ci rendiamo conto che quando diamo la vita anche nella quotidianità con i nostri limiti con le nostre stanchezze anche con le nostre contraddizioni perché non esistono i super genitori esattamente come non esistono i super figli nella misura in cui ne diamo comunque tutto quello che possiamo dare noi diamo una misura enorme fosse anche minima se comparata con chi dà di più è importante che ci rendiamo conto di questo perché se non ce ne accorgiamo la vita diventa banale a me sembra che un sentimento che purtroppo si sta diffondendo e a cui talvolta corrisponde anche un tentativo di elaborare questo sentimento è quello in base a cui la vita in se stessa sarebbe banale cioè se non riusciamo ad aggiungere qualcosa sarebbe prima di significato ora io credo che sia importante che noi ci rendiamo conto che la vita in quanto tale è gigantesca perché rappresenta precisamente il non essere niente e anche una misura minima ripeto il concetto in confronto con niente è enorme e incomparabile questo lo dico non per fare facile poesia perché tutti qui abbiamo un'età in cui abbiamo capito perfettamente che la vita alle volte può essere anche complicata ma per dire che se non riusciamo a cogliere riconoscere lo straordinario che c'è nella ordinarietà noi rischiamo di cadere in forme di noia che ci spingono poi a cercare qualcosa che faccia ancora percepire elementi di distinzione o lebrezza o qualche altra cosa ma in che modo allontanando dall'ordinarietà allora è una cosa che se riguarda noi adulti figuratevi quando riguarda i nostri figli che sono ancora più immersi dentro un costante richiamo a vivere l'estremo e a puntare a qualcosa di più senza sapere apprezzare quello che hanno penso che non sia questa che dico ora un'esperienza che purtroppo ci manca come genitori il fatto che diamo qualcosa ai nostri figli e sembra che nel momento in cui lo diamo perda di significato perché stanno già rincorrendo qualcosa d'altro ecco perché forse faremo meglio qualche volta a fargli aspettare un po' priva di ricevere qualcosa perché l'attesa talvolta permette di riconoscere l'importanza di quello che viene dato mentre se le cose vengono date così nel momento stesso in cui vengono richieste sembra quasi che non ci sia nulla che del loro valore se ci fate caso questo capita anche a noi quando aspettiamo qualcosa di bello quando ci avviciniamo alla vigilia di qualche festo di qualche momento che per noi è importante tutto sommato mi viene da dire è quasi più importante il momento dell'attesa di quando il momento avviene perché nell'attesa che noi pregustiamo qualcosa e questo elemento dà sapore anche poi naturalmente a quando avverrà l'incontro a quando avverrà la circostanza allora è importante che noi ci rendiamo conto che la bellezza il piacere che sono fondamentali perché se non fossero fondamentali vorrebbe dire che noi cerchiamo ciò che è brutto e cerchiamo ciò che non piace e sarebbe certamente un atteggiamento piuttosto problematico ora sul richiamo della bruttezza magari potremmo prenderlo come qualcosa che ha anche un suo significato ma sul richiamo di ciò che non piace se uno desidera soffrire ha semplicemente una patologia psicologica cioè non è in grado di apprezzare la bellezza di ciò che ci viene offerto e questa condizione è una condizione che certamente noi non dobbiamo assumere come un richiamo da valorizzare allora la bellezza il piacere dobbiamo cercare di farli diventare qualcosa che possiamo riconoscere raccogliere nella misura in cui merita di essere raccolto e soprattutto guidare a me pare che un rischio forte a cui siamo esposti oggi è quello di guardare alla bellezza e al piacere come opportunità compensative cioè dentro un ordinario una vita comune che talvolta rischia di sembrare un poco spenta il richiamo della bellezza il richiamo del piacere come l'opportunità di una fuga di qualcosa che permette di compensare la scarsa soddisfazione che ci dà l'ordinarietà ora è interessante notare che i grandi maestri spirituali penso in questo momento al grande maestro spirituale del papa essendo lui gesuita ignazio di loiole il fondatore della compagnia di gesù hanno sempre detto che il segreto di una bella spiritualità è nel sapere vivere in maniera straordinaria l'ordinario perché l'ordinario ha la straordinarietà di cui parlavo prima cioè legata al fatto che è un'opportunità che ci viene offerta e rispetto a niente è qualcosa di gigantesco quale potrebbe essere allora un criterio e con questo mi porto già verso la seconda parte che vorrebbe essere anche concreta darci qualche indicazione di tipo educativo quale potrebbe essere un criterio per saper distinguere tra la bellezza e il piacere generici potremmo dire nella loro capacità superficiale di attirarci e la bellezza e il piacere invece che sanno andare in profondità e in questo senso sanno far riconoscere lo straordinario anche nell'ordinario a me sembra che un criterio antico ma che ancora oggi funziona è questo verificare bene avere il coraggio quindi di chiederci se noi desiderando quello che stiamo desiderando e raggiungendo quello che stiamo raggiungendo e quindi decidendoci in un senso o nell'altro diventiamo migliori o diventiamo peggiori questa dottrina che è molto antica era legata all'idea di prassi o di pratica cioè l'idea che le azioni pratiche sono tali perché trasformano chi le fa allora rispetto al richiamo della bellezza del piacere io raccogliendo questo richiamo nella concretezza in quella situazione con quella persona facendo quella cosa e quindi andando incontro all'esperienza di piacere o di soddisfazione legata alla bellezza mi trasformo cioè divento qualcun altro e a questo punto credo che sia importante che noi abbiamo chiaro che potremo anche ingannare gli altri cioè non sempre ci si riesce ma senz'altro la cosa è possibile ma non inganniamo mai noi stessi cioè noi di fronte alla domanda se stiamo diventando migliori o stiamo diventando peggiori sappiamo rispondere ma è fondamentale che ci poniamo alla domanda perché forse il problema di sempre è appunto quello di non porsi la domanda e non ponendosi la domanda alla fine assecondare semplicemente quello che ci attira allora qui richiamo la favola di Pinocchio perché la favola di Pinocchio è una narrazione senza dubbio molto efficace nel descrivere quello che ho appena detto perché Pinocchio che nasce appunto come burattino di legno prende carne e prende vita nel momento in cui gli viene fatta questa offerta e lui la raccoglie e inizialmente vive avendo coscienza del dono che ha ricevuto ed ecco che loro come sappiamo gioca con gli altri va a scuola eccetera fino a quando lui non cade nell'equivoco prima lo sappiamo con con Mangiafoco cioè con questo imbonitore ce ne sono tanti che non occorre fare esempi e poi con Lucignolo cioè con l'amicizia cattiva nel primo caso c'è l'estraneo potremmo dire che induce nell'errore inganna nel secondo caso c'è l'amico l'amico cattivo e quanti ragazzi anche oggi vengono rovinati dalle compagnie tutti noi come genitori sappiamo che è essenziale che portiamo attenzione su chi frequenta i nostri figli perché le compagnie influiscono l'abbiamo anche magari sperimentato sulla nostra pelle ora anche in questo secondo caso cioè Lucignolo che lo attira nel paese dei Valocchi ebbene cosa accade accade che lui torna ad essere burattino cioè torna perde quella pienezza di vita che aveva ricevuto e la perde perché perché cede al richiamo della bellezza e del piacere secondo una modalità che non corrisponde alla sua dignità perché la fata che gli ha donato la carne la fata turchina è certamente bella se no non sarebbe una fata allora questo vuol dire che Pinocchio fa l'esperienza dell'ambiguità della bellezza esattamente come l'esperienza di piacere che lui prova essendo bambino e quindi giocando eccetera eccetera è un'esperienza di piacere buono e noi sappiamo che il piacere è fondamentale perché la ragione per cui avvicinando una fonte di calore non ci scottiamo a meno che non accada perché siamo distratti e che noi avvicinandola gradualmente ci rendiamo conto che quella che può essere inizialmente una percezione di piacere il tepore del calore a un certo punto diventa una percezione di sofferenza e noi ritraiamo la mano provate a pensare se la nostra vita fosse senza la percezione del piacere sarebbe una vita assolutamente a rischio perché la percezione del piacere è quella speculare della sofferenza sono il dispositivo originario per custodirci e per preservarci rispetto a esperienze che possano essere nocive ad esempio privilegiando invece esperienze che non ci fanno male dopodiché il problema l'abbiamo penso capito tutti raggiunta l'età che abbiamo qua dentro a parte chi ha ancora davanti a sé tutta la strada per capirlo e cioè che tutte le azioni buone generano piacere ma purtroppo non tutte le azioni che generano piacere sono buone questo è il problema l'umanità ha sempre fatto i conti essenzialmente con questo cioè il piacere ci attira tutto ciò che è buono genera piacere infatti quando noi agiamo bene ci dà soddisfazione questo vuol dire il termine tecnico potremmo dire è la letizia cioè è questa percezione di gioia di soddisfazione eccetera di appagamento il problema è che non tutto ciò che genera piacere è buono e quindi noi ci troviamo sempre a fare i conti con l'esigenza di sapere distinguere se l'opportunità che abbiamo davanti ci può introdurre in un'esperienza di soddisfazione buona oppure no e per la bellezza vale la stessa cosa certamente la bellezza ci attira ma la bellezza è stata sempre utilizzata per sedurre e questo vale per la donna come vale per l'uomo perché la seduzione l'ha sempre praticata tutti quelli che intendevano raggiungere un certo obiettivo per le vie brevi diciamo dopodiché qual è il rischio della seduzione il rischio della seduzione è che quando la seduzione è a senso unico cioè quando non avviene nella coppia in cui ci seduce reciprocamente e quindi a questo punto è una condizione speculare e di compimento reciproco quando la seduzione avviene a senso unico una persona domina sull'altra e questa condizione ovviamente ci ripugna perché se è vero che siamo liberi e penso che sia difficile negare che questa è la condizione che ci identifica di più ovviamente questa condizione non può conciliarsi con il dominio di qualcuno su di noi allora per la bellezza se volete in maniera un po' più soft un po' più sfumata per il piacere in maniera molto più direi solida e immediata il problema è lo stesso il problema è che ci attirano ed è importante che ci attirino perché questo ci permette di avere un orientamento di base un orientamento iniziale un orientamento elementare ma ciò che è basilare ciò che è iniziale ciò che è elementare lo dicono le parole stesse che cosa domanda domanda di crescere cioè non possiamo prenderlo come se fosse già compiuto e fermarci lì perché se ci fermiamo lì ragioniamo come quando avevamo tre anni quattro anni cinque anni la sfida di diventare adulti è quella di costruire un'altezza su questa base e l'altezza che va costruita su questa base che cos'è è la capacità di agire coerentemente con la nostra dignità ed è questo che ci permette allora di aderire alla bellezza e di cercare il piacere che ci fanno diventare migliori ed è a questo punto che vorrei leggere con voi questa storiella di Ercole vi dicevo che questa è probabilmente la storia più antica che in occidente si è costruita per educare per fare tecnicamente educazione morale cioè l'educazione orientata a far diventare capaci di agire bene la la storia così come riprodotta risale a questo autore che è vissuto ventiquattro secoli fa e come vi dicevo descrive Ercole Eracle perché Eracle è il nome greco di Ercole che incrocia queste due donne vorrei leggerla con voi e riflettere poi un attimo su questa situazione Eracle al momento del passaggio dalla fanciullezza alla giovinezza interessante questo la storia viene contestualizzata nel momento in cui l'eroe non è più un bambino ma sta diventando uomo sta diventando adulto quando dice la storia i giovani ormai padroni di sé mostrano se nella vita si indirizzeranno sulla via della virtù su quella del vizio Eracle appunto si recò in un luogo solitario e seduto si domandava quale strada prendere ed ecco gli apparvero due donne che venivano verso di lui una gli disse vedo che tu o Eracle sei in dubbio su quale indirizzo dare alla tua vita allora se mi farai tua amica io ti porterò per la strada più dolce e facile e non ci sarà piacere che tu non gusterai e passerai la vita senza fare esperienza del dolore ed Eracle dopo averla ascoltata le chiese donna come ti chiami e quella rispose felicità mi chiamano gli amici ma quelli che mi odiano mi chiamano con disprezzo vizio la mia impressione è che il discorso che vizio fa o felicità fa Eracle sia di una banalità assoluta perché andare a dire a uno se mi segui farai l'esperienza di tutti i piaceri mi sembra una delle cose più scontate di questo mondo vedremo che anche virtù è molto banale nel parlare ad Eracle salvo una particolarità su cui vorrei tirare la vostra attenzione e intanto l'altra donna cioè virtù avvicinata si disse anch'io giungo a te o Eracle conoscendo i tuoi genitori non ti ingannerò con promesse allettanti ma ti spiegherò senza menzogne come gli Dei hanno ordinato la realtà delle cose buone la realtà punto qui è stato un punto delle cose buone e belle che ci sono infatti nessuna essi concedono agli uomini senza fatica e impegno se ti prenderai cura di affrontare questi sacrifici tu potrai o Eracle figlio di nobili genitori acquistare la più beata felicità ora mi sembra che il discorso di virtù sia di una banalità totale quando dice ad Eracle vedi gli Dei hanno immaginato le cose in questa maniera che tutto quello che vale deve costare e quindi senza fatica non si conquista niente ecco mi sembra una banalità perfettamente speculare a quella di vizio che gli avevo detto prima guarda che se vieni con me fare esperienza di tutti i piaceri eccetera ma nel discorso di virtù per ben due volte compare un riferimento che non c'è nel discorso di vizio ed è il richiamo ai genitori quando rivolgendosi appunto ad Ercole dice virtù mi rivolgo a te o Eracle conoscendo i tuoi genitori e alla fine dice se ti prenderai cura di affrontare questi sacrifici tu potrai o Eracle figlio di nobili genitori eccetera perché questo particolare a me sembra importante perché la situazione in cui si trova Ercole è la situazione di tutti noi la situazione in cui noi possiamo scegliere tra alternative ed è la situazione in cui intuitivamente spontaneamente noi riconosciamo cosa voglia dire essere liberi penso che se chiedessi che cosa vuol dire essere liberi noi potremmo rispondere più o meno tutti quanti una persona libera quando può scegliere tra alternative ma questa risposta è insufficiente perché insufficiente perché se è vero quello che vi dicevo prima e credo che sia una dottrina questa ampiamente collaudata la questione non è semplicemente che io scelga tra una cosa o l'altra ma è di verificare chi divento scegliendo perché scegliendo una cosa o l'altra io divento qualcuno e la favola di Pinocchio dice questo scegliendo di ascoltare Mangiafuoco come anche poi di ascoltare il gatto e la volpe come di ascoltare Lucignolo lui non rimane il bambino che era diventato ma ritorna Burattino cioè si trasforma peggiorando ecco perché dicevo prima è importante che noi con noi stessi e dicendolo anche i nostri figli ci ricordiamo di questa cosa che è semplice ma tutt'altro che facile ossia che dobbiamo sempre chiederci chi stiamo diventando facendo quello che facciamo ed è questo il criterio che ci può aiutare a distinguere le cose certo qualcuno potrebbe dirmi ma allora a questo punto tu metti in conto l'errore certo che lo metti in conto ecco perché già un'altra volta mi pare vi dissi che sono ferocemente contrario al registro elettronico perché per me l'idea che si debba impedire lo sbaglio è sbagliata attenzione a una condizione che noi permettiamo lo sbaglio quando può essere piccolo ecco perché dico è importante che i bambini piccoli facciano esperienze di tipo sociale che li espongano anche a commettere qualche errore perché è probabile che facciano piccoli errori e quindi a quel punto se c'è l'adulto che li sta accompagnando possono essere aiutati a capire cosa hanno fatto e a riparare l'eventuale errore certo che quando viene di fronte un diciassettenne è meglio che sia arrivato a quell'età avendo già maturato qualche concetto e avendo capito qualcosa dagli errori che ha fatto a 3, 4, 5, 6 anni perché se noi trattiamo il diciassettenne a briga sciolta a quel punto è probabile che faccia grossi errori con conseguenze proporzionate allora io credo che valga quanto dice il proverbio è sbagliando che si impara come educatore dobbiamo fare in modo che gli sbagli commessi siano piccoli perché si possa imparare per evitare di commettere quelli più grossi ora perché il riferimento ai genitori è fondamentale il riferimento ai genitori è fondamentale perché dà un ancoraggio alla libertà mentre prima ho detto la modalità più superficiale di concepire la libertà è ritenere che io sono libero quando posso scegliere tra alternative perché non mette in conto che se scelgo l'alternativa cattiva io divento peggiore e il fatto che l'abbia scelta io non la fa diventare buona rimane cattiva qui dicendo a Ercole veramente due volte che è figlio di nobili genitori gli dice nello scegliere tra me e l'altra ricorda chi sei cioè ricorda che hai una dignità noi siamo liberi non quando scegliamo tra alternative ma quando tra le alternative scegliamo soltanto quella che ci merita cioè quella che ha l'altezza della nostra dignità e se non ce n'è nessuna che ci merita siamo liberi rifiutandoci di scegliere questo è fondamentale dobbiamo impostare la pratica educativa facendo capire i nostri figli che sono un bene e che la loro prima preoccupazione deve essere quella di custodire il bene che sono loro e che sono gli altri perché se si riconosce di essere un bene a quel punto c'è una motivazione grazie alla quale è possibile respingere la bellezza futile e fuorviante il piacere nocivo perché a quel punto io dico attenzione perché mai dovrei accettare di diventare peggiore di mettere a rischio la mia integrità il bene che sono io devo custodirmi allora penso che se questo è il problema dei nostri ragazzi di fronte al disagio e alla devianza ve l'ho già detto ma torno a ripeterlo perché mi piacerebbe che ci confrontassimo su questo la mia impressione è che stiano salendo generazioni che non hanno alcuna coscienza della loro dignità non hanno alcuna percezione del fatto che sono un bene e che quindi devono custodirsi e non devono afferrare qualunque osso gli venga messo davanti ma soltanto l'osso che li merita allora adesso passo da una citazione aulica a una meno aulica ma penso significativa immagino che abbiate visto il cartone il re leone l'avete visto probabilmente non è passato perché in questi anni è stato proiettato quando il giovane leone Simba se non ricordo male si chiama ritorna in sé e si rende conto che sta sprecando la sua vita quando vede specchiandosi nell'acqua non la sua l'immagine non il suo volto ma il volto di suo padre è quello che qui ne ha detto di Ercole è il riconoscere di venire da qualcuno che ci può ancorare certo lo sappiamo che il riconoscere che veniamo da qualcuno può talvolta portarci a riconoscere situazioni problematiche perché non sempre il richiamo dei nostri genitori è un richiamo positivo però credo che lasciando fuori evidentemente le condizioni estreme rispetto alle quali infatti è previsto anche che si venga che venga tolta la patria potestà evidentemente se un genitore espone il rischio e pone il figlio dei rischi di un certo tipo magari i nostri genitori hanno fatto più o meno bene i loro genitori l'hanno fatto come hanno potuto però se noi siamo qui oggi è perché qualcuno ci ha accolto ed è probabile che loro per primi l'hanno fatto quindi in effetti la nostra vita è stata custodita più o meno bene è importante credo che noi ci rendiamo conto di questo perché la mia impressione è che noi di fronte al richiamo della bellezza e al richiamo del piacere che sono fondamentali perché rappresentano appunto come dicevo prima la bussola come dire elementare per orientarci nella vita tuttavia la bellezza e il piacere sono esposti al rischio di essere puramente compensativi cioè di essere scelti soltanto perché danno piacere e soddisfazione reciprocamente ora questo non basta perché se io scelgo la bellezza o scelgo il piacere senza chiedermi chi divento scegliendo in quella situazione particolare la bellezza o il piacere ecco che io sono veramente a rischio di andare incontro ad un degrado che potrà essere magari graduale magari non ce ne accorgiamo subito ma a un certo punto ce ne accorgiamo e con questo torno all'inizio perché torno a ribadire il concetto che vi ho ribadito sin dalla prima sera che ci siamo visti voi siete qui perché avete introdotto i vostri figli nell'iniziazione cristiana ci avete chiesto alla chiesa di introdurre i vostri figli nella pratica della fede ora noi stiamo attraversando una gigantesca crisi di fede ed è chiaro che noi oggi facciamo fatica a credere e la conferma di questo l'abbiamo nel crollo della pratica sacramentale che vuol dire la non frequenza della santa messa domenicale e vuol dire portare i ragazzi ai sacramenti e poi la domenica dopo a messa non c'è più nessuno e già questo accade purtroppo nel percorso quando arriva l'estate eccetera eccetera allora penso che è importante che noi ci poniamo questo quesito ma la fede in Cristo annunciato dalla chiesa è irrilevante in ordine alla maturazione della coscienza della custodia di sé oppure fa la differenza io credo evidentemente che faccia la differenza e non è casuale che infatti sia partito dal brano del buon pastore devo voluto farvi osservare che questo buon pastore che in realtà è il bel pastore perché è bello non è bello per la sua prestanza fisica certo nelle catacombe viene descritto come un giovane perché i primi cristiani lo volevano descrivere come la pollo dei pagani cioè loro volevano far capire i pagani che la loro fede che poteva sembrare così strana tuttavia aveva qualcosa di simile con la fede da cui loro stessi provenivano mi riferisco evidentemente ai pagani non di origine ebraica cioè non ai primissimi cioè i cristiani non di origine ebraica non ai primissimi ma quelli della già della seconda o terza generazione e loro quindi raffiguravano il Cristo buon pastore come il dio Apollo e il dio Apollo essendo il dio il sole è sempre raffigurato come un giovane bello e anche biondo e infatti generalmente questa immagine di Cristo ha anche diciamo questo tocco estetico ma loro hanno voluto subito far capire che questa bellezza non era la bellezza apparente e quanto sia apparente qua l'abbiamo capito tutti quanti perché abbiamo raggiunto un'età in cui ci rendiamo conto più o meno che anche sul piano estetico stiamo incrociando come dire un elemento che non ci va più di conoscere la tonicità di quando eravamo vent'anni d'accordo ma questa bellezza sta nel fatto che dà la vita il buon pastore come lo chiamiamo noi oggi è un bel pastore non perché ha le sembianze di Apollo cioè di un giovane nella pienezza del vigore psicofisico come tutti quanti lo siamo stati a vent'anni o giù di lì ma perché dà la vita per le pecore e guarda caso il dare la vita è appunto il gesto che abbiamo compiuto nel mettere al mondo i figli quindi c'è qualcosa di profondo in tutto questo e noi questa cosa i figli dobbiamo dirla perché il fatto che li abbiamo messi al mondo è tutt'altro che banale non soltanto perché evidentemente implica impegno accanto a soddisfazione eccetera eccetera da parte nostra ma perché offre a loro l'opportunità di fare che cosa offre a loro l'opportunità di far diventare la loro vita un capolavoro una delle immagini che gli antichi usano per parlare dell'educazione è l'immagine artistica l'idea cioè che educare significa guidare a diventare capaci di fare della propria vita un capolavoro e l'artista quando lavora il blocco di marmo o altro la prima cosa che fa qual è è di avere coscienza di chi vuole tirare fuori da quella forma come diceva Michelangelo delle sue statue che lui nel blocco di marmo vedeva già quello che doveva uscire ma praticamente l'artista cosa fa non butta via niente di quello che è essenziale a far emergere la forma cioè custodisce quello che ha davanti allora penso e con questo mi devo concludere che il vero problema dei nostri ragazzi oggi e forse anche di noi adulti perché alla fine i ragazzi rendono evidente quello che noi essendo adulti riusciamo più o meno mascherare è di custodirsi noi facciamo i conti con un'impressionante tendenza impressionante per l'apparente disinvoltura poi non credo che sia così però le cose alle volte sembrano così l'apparente disinvoltura con cui non ci si custodisce con cui si praticano comportamenti impropri che oltre che danneggiare gli altri danneggiano anche chi li fa questa cosa come educatori credo che non ci lascia indifferenti come genitori non ci lascia assolutamente tranquilli allora l'importante è che ci chiediamo perché mai l'essere umano dovrebbe custodirsi e la risposta che ci viene data è che l'essere umano deve custodirsi perché è un bene ed è un bene perché Dio lo ha creato ed è un bene tale che questo Dio diventato uomo come noi Gesù Cristo dice ai suoi discepoli che dà la vita per loro allora con questo concludo alle volte mi chiedo e vi chiedo è immaginabile in ordine a motivare a custodirsi che vuol dire anche quindi di non scegliere talvolta quello che sembra più facile non scegliere talvolta quello che ci attira a occhi chiusi perché e qui è la favola di Pinocchio che vale direi come parabola immediata fa la differenza rispetto appunto alla aspirazione se non alla capacità a custodirsi credere o non credere in un Dio che è diventato uomo per dare la vita per noi ecco penso che questa cosa faccia la differenza e penso che valga la pena che noi ci pensiamo su questa cosa perché questa cosa allora può motivare i nostri figli a far sì che l'iniziazione cristiana non siano ammesse in scena e può rimotivare noi ad approfittare di questa occasione per rimetterci dentro una pratica sacramentale che per svariate ragioni potremmo avere non soltanto ottenuato ma anche abbandonato vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie Giuseppe butto lì una riflessione che può aprire un confronto poi facciamo un attimo di pausa così cambio anche la batteria che vedo che sta lampeggiando tu hai citato più volte la fiaba di Pinocchio con anche citando poi il modo di dire o proverbio che sbagliando si impara voi sapete com'è finisce Pinocchio il Pinocchio originale di Collodi noi sappiamo che Pinocchio poi diventa bambino così via ecco quello non è come l'ha scritto Collodi il Pinocchio originale di Collodi viene impiccato dal gatto e la volpe viene ucciso e mentre muore e mentre muore invoca la presenza del babbo Geppetto affinché possa essere accanto a lui e poi chiaramente lo si è addolcito perché non andava bene una cosa del genere da raccontare ma domandiamoci anche cosa vuol dire questo perché Collodi voleva dire sbagliando si impara ma a volte sbagliando ti fai solo male quindi bisogna stare attenti e qui domandiamoci anche cosa vuol dire forse il paragone o il legame tra la bellezza e la verità noi sappiamo che quando vogliamo invitare qualcuno ad assumere dei comportamenti abbiamo due modalità ve lo dicevo tra quattro settimane fa in predica a messa un modo è minacciare alcatale chapet e gli cambi guarda che ti fai male e così via o se funziona è efficace anche questo sappiamo però che quando uno è minacciato cercherà in tutti i modi di comportarsi in modo un po' da sotterfugio perché appena passa il pericolo ritorna a fare ancora quello di prima e poi avrà sempre l'occhio attento per dire guarda che se me la giri appena appena io farò le cose di nascosto l'altra modalità è quella di prospettare a chi bian davanti che il cambiamento che andrà a fare renderà bella la vita potremmo dire con un altro modo efficace cento no non fanno un sì cento no non fanno un sì e quindi è chiaro che noi possiamo educare alla bellezza e dobbiamo essere belli per attirare e far capire ai nostri figli cosa vuol dire vivere una vita bella per la quale valga la pena viverla e non sopravvivere solo che a volte io mi domando ma perché non riusciamo noi a raccontare questa bellezza anche se ce la mettiamo tutta ma siamo proprio così brutti a volte perché se penso a cosa viene dopo di noi sembra che fra qualche tempo ci sarà il deserto totale sarà raso tutto al suolo siamo proprio così brutti proprio così poco appetibili perché se penso a cosa vuol dire far festa far festa vuol dire che c'è un convenire di persone verso una realtà che è festiva che ci attrae più il festivo è attraente è forte più attrae e se pensiamo alla pratica cristiana stiamo continuando a perdere quindi è proprio brutto allora questo Gesù non è più così bello è quello che noi raccontiamo di Gesù non è più così bello perché quindi educare alla bellezza è una cosa impegnativa però pone comunque dei problemi io avverto questi problemi non so se voi fate fatica io sperimento questa fatica ora facciamo un attimo di pausa ci pensiamo io mi ero rascinato anche alcune altre cose magari anche voi potete mettere insieme qualche idea qualche domanda per confrontarci cinque minuti di pausa così cambiano anche la batteria allora riprendiamo così io pongo già qualche qualche stimolo di riflessione intanto vi racconto una cosa carina di ieri sera perché ieri sera neanche a farlo apposta abbiamo parlato con gli adolescenti abbiamo fatto come come argomento il processo a Dio è un Dio buono è un Dio cattivo e così via no? è uscito proprio il tema anche di Pinocchio è uscito anche il tema di Cenerentola sapete cosa fanno le sorvasti di Cenerentola per indossare la scarpa? si tagliano le dite dei piedi per indossare le scarpe e raccontavo questa cosa perché poi anche questa cosa è stata addolcita e mentre dicevo un ragazzo si tagliano le dite dei piedi e lui mi dice eh sì ma se la pianta è larga cioè bello questo qua però però per dire che cosa collegandomi collegandomi a quello che tu dicevi all'inizio al richiamo della bellezza quasi come se fosse un istinto ma questo istinto caspita se lo zittiamo poi uno non si rende neanche conto perché noi abbiamo come gli animali degli istinti che sono immediati primordiali e così via poi un passo in più sono le emozioni che sono un po' di più di quelle degli animali ma anche se sono istintuali anche queste qua istintive da qui vengono i sentimenti i sentimenti i sentimenti cosa sono? sono il sentire il sentore di fronte a quello che tu provi e i sentimenti sono il modo per educare le emozioni tant'è vero quando noi diciamo non sai di niente non senti di niente è come per dire che forse non hai rielaborato non hai fatto il passaggio per capire le tue emozioni dove ti hanno portato no? poi i sentimenti se perdurano nel tempo diventano stati d'animo quindi poi diventano condizioni per cui io mi dico ma uno è nella condizione di riconoscere davvero la bellezza anche se istintiva se continuamente magari ha pratiche di vita che che sono volte magari alla bruttezza oppure sono volte a a a stordire la tua capacità anche istintiva di riconoscere la bellezza quindi questo istinto che c'è c'è o c'era c'è ancora non lo so perché quando a volte porti i ragazzi in montagna io ho in mente un anno al summer on the road con quelli più grandi al greste hanno fatto un'uscita sull'olio con i gommoni la notte e tutto il resto poi siamo andati lungo l'olio a un certo punto dico fermiamoci un attimo era una bellissima zona c'era bel fresco tra l'altro fermiamoci un attimo e ascoltiamo un po' il vento che passa nelle foglie degli alberi guardiamo i colori poi è chiaro che i ragazzi quando c'è silenzio uno ha scorreggiato uno ha fatto quindi poi arruttate così quindi poi rotta subito l'atmosfera in due secondi però ricomposto ricomposto poi il tutto e dico loro ma allora cosa abbiamo cosa stiamo state sperimentando cosa 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 bella e si balbettava si balbettava perché non si era capace di tirar fuori eh si stramega bello stramega però però cosa quindi per dire che il sentore il sentimento bisogna anche educarci poi alla bellezza non è che semplicemente uno purtroppo perché è l'istinto quindi dico ci si può educare questa bellezza cosa possiamo fare per educarci alla bellezza un'ultima cosa anzi sono ancora due veloci e tu parlavi del cogliere prima lo straordinario nell'ordinarietà e mi ricordo quello che tu dicevi di come a volte avvengano pratiche disinvolte di comportamenti negativi pensiamo a cosa vuol dire anche oggi di come tanti e dico tanti non hanno a cuore leggero dico con consapevolezza che il numero è abbondante ragazzi siano disinvolti nel praticare il gioco che è sempre comunque stato legato al piacere perché se uno gioca perché gli piace se no non giocherebbe però con pratiche dannose per se stessi pensiamo a cosa vuol dire tutti quei vari riti sui social che vengono fuori pensiamo a cosa vuol dire anche l'accostarsi alla droga o l'obbriacarsi che è proprio diffusissimo o al tagliarsi o cose del genere quindi questo mix tra il piacere il gioco il piacere e pratiche disinvolte di danno a se stessi e l'ultima sul piacere che forse magari diventa magari il motore principale di quest'ultima fase storica della nostra cultura magari più che la bellezza dove magari siamo mossi essenzialmente da ciò che ci piace e penso che in se stesso il piacere che è comunque una cosa buona però in se stesso è regressivo perché se guardo di fare solo le cose che mi piacciono beh io farò ben poco ve l'ho detto già anche in altre occasioni se guardo di fare quello che mi piace alla mattina chi si alza chi va al lavoro chi prega chi va a messa chi va a scuola e così via quindi è chiaro che il piacere è un bel motore però se guardiamo oggi io ho fatto questa ragionata poco tempo fa e mi sono detto poi non lo farò e poi mi sono detto basta l'ultima volta che propongo uno a lavorare a una persona che lo assume basta perché ho fatto un'altra volta una vergogna impressionante proposto uno a lavorare dai no fa un piacere dai tu sei a lavorare che così via due giorni ragazzi veramente quindi dico oh ma ti renderai conto che non puoi solamente pensare che sei due giorni lì magari non hai chiesto le ferie ma due giorni quindi però è questo quindi sono alcuni ragionamenti grazie poi li riprendo non so se c'è già qualcuno vuole dire qualcosa Zaccaria ok qualcuno vuole vuole aggiungere qualcosa vediamo se ci sono altri io raccolgo questi quattro spunti ah ho capito raccolgo i quattro spunti e li condivido il primo che facevi introducendo è importante che noi ci rendiamo conto che ogni volta che diciamo no e i no ovviamente servono deve essere chiaro che diciamo sì cioè se noi ci limitiamo a impedire qualcosa a proibire qualcosa ma non facciamo capire l'offerta che diamo ebbè il risultato sarà che verrà una voglia enorme di fare quello che noi vogliamo impedire come sempre allora è fondamentale che ad ogni no corrisponde un sì e ogni volta che noi impediamo proviamo qualcosa noi facciamo anche una proposta che sia assertiva cioè che venga identificata dal nostro interlocutore dal ragazzo come un'opportunità per affermare se stesso il secondo riferimento che facevi sull'istinto ti chiedevi ma c'è ancora questo istinto e noi stiamo facendo i conti con un problema che infatti sta emergendo soprattutto nelle società più avanzate sul piano tecnologico provate a pensare all'istinto più forte che ha l'essere umano che evidentemente è quello sessuale ora in una società ipertecnologizzata come quella giapponese comincia a manifestarsi il fenomeno dei cosiddetti erbivori cioè sono adolescenti e giovani che rifiutano il sesso cioè affermano di non avere alcuna attrattiva per questa cosa ora evidentemente questo tipo il venimeno di questo richiamo fa capire che c'è qualcosa che ci sta come dire inceppando nel profondo perché perché questo è un richiamo profondo che abbiamo appunto e dobbiamo imparare a disciplinarlo ma quando questo richiamo non ci sia evidentemente non si può considerare questa una condizione normale ora si sta verificando in una situazione dove c'è però una esposizione fortissima alla tecnologia che ad esempio sta portando ad una ancora più forte di quanto non stia accadendo da noi dove la cosa è già particolarmente accentuata diffusione della pornografia allora dobbiamo avere chiaro che l'essere umano non è soltanto natura e quindi trasforma la natura e quindi la tecnica stessa è frutto di questo ma la tecnica deve essere sempre ordinata e subordinata a ciò che è originario se la tecnica va a sovrapporsi a ciò che è originario ossia a ciò che costituisce l'essere umano ecco che la tecnica può diventare asfissiante dobbiamo stare attenti quindi a evitare che l'istinto nella sua condizione originaria che va quindi come dire modellata formata eccetera venga in qualche maniera assopito al punto da non essere più riconoscibile e questo perché c'è un eccesso di artificialità dentro l'ambiente in cui ci si muove il terzo riferimento che tu facevi ai comportamenti disinvolti e dannosi e citavi i riti sui social eccetera e qui penso che noi dobbiamo fare i conti con qualcosa che è coerente con la diagnosi che ponevo prima la grande crisi di fede nella quale che stiamo attraversando cosa sta comportando beh sta comportando un ritorno al paganesimo evidentemente perché non è che la gente smette di credere la gente crede diversamente e a me pare che stia avanzando un forte richiamo pagano paganeggiante dove l'aggettivo guardate non vuole essere un aggettivo dispregiativo ma vuole dare una precisa caratteristica qual è la caratteristica del paganesimo se lo confrontiamo con il cristianesimo semplicissima nella concezione pagana il finito basta se stesso nel mondo pagano la finitezza della vita del mondo eccetera era presa come un elemento autosufficiente cioè nella prospettiva pagana non c'era riconoscimento del fatto che si poteva andare oltre questa condizione e andare incontro effettivamente a quello che il cristianesimo ha subito prospettato il diventare come Dio nel senso di diventare figli di Dio eccetera ora provate a pensare al tempo nella concezione pagana il tempo è circolare e ciclico cioè è un continuo ritorno del già visto nella concezione cristiana invece questa circolarità viene spezzata e il tempo diventa una linea lungo la quale ogni attimo che passa non torna più e quindi ogni attimo acquista un valore enorme incommensurabile e può comportare che io mi trasformi in meglio o in peggio fateci caso che anche le pratiche ad esempio di manipolazione fisica tu nominavi giustamente quello che sta accadendo oggi il procurarsi per esempio ferite taglie eccetera voi le trovate tutte nella ritualità pagana tutte allora è interessante notare che il cristianesimo ha profondamente mutato la stessa idea del sacrificio perché nell'ottica cristiana noi non facciamo nessun sacrificio a Dio ma noi partecipiamo dell'unico sacrificio che Cristo ha fatto di sé al padre qui c'è una radicale differenza rispetto al mondo pagano che faceva sacrifici per in qualche maniera cattivarsi la divinità quindi stiamo ben attenti perché viene in meno della fede cristiana non è senza conseguenze ma è regressivo anche rispetto ad alcune pratiche e soprattutto ad alcune dinamiche come anche condivido quando tu osservavi che il piacere in sé è regressivo e sì è regressivo perché il piacere in sé rimanda alla condizione infantile quindi se il criterio del piacere rimane quello che tiene banco ebbè questo comporta quantomeno uno stile di vita infantile e quindi uno stile di vita che cerca sempre la soddisfazione che non è capace come invece deve farlo anche da andare incontro a situazioni che non danno soddisfazione ma che vengono sostenute perché e perché evidentemente ci sono motivi forti che le fanno sostenere ad esempio il riconoscimento di un certo valore o di alcuni principi allora è fondamentale che noi puntiamo per i nostri figli a fare in modo che diventino capace di contenere e governare il richiamo del piacere perché se non ci riescono non cresceranno mai e quindi non diventeranno adulti avete visto ancora quando ci sono alcuni ragazzi e ragazze che vanno in giro con quei pantaloni che però sono bassi bassi che sembrano un po' una sorta di pannolone è vero no? che dice un pochino come sì una sorta di essere infantili perché c'è questo mega pannolone che ci tiene ancora addosso però hanno una differenza che c'è fuori la mutanda che vuol dire che però sessualmente io sono pronto che vuol dire che io sono libero di fare quello che voglio e in realtà poi invece ci accorgiamo che saltafero non sa de pastesse e così via è così sul tempio invece mi collego a quello che diceva prima Giuseppe io ve l'ho spiegato mi sembra due anni fa quando abbiamo parlato del quinto anno per qualcuno e qualcuno lo scorso anno della messa vi ricordate che quando noi facciamo l'incensazione all'altare in chiesa non seguiamo il senso orario ma anti-orario c'è un motivo ben preciso l'eturgia va al di là del tempo non è un qualcosa che si è già visto e torna no no è un qualcosa che è accaduto allora ricade oggi ma è il momento nel quale Cristo muore risorge quindi quell'azione barca il tempo è una cosa molto potente cosa interessantissima due o tre indicazioni adesso prima di salutarci e di ringraziare poi Giuseppe per il suo intervento che con stasera lui conclude il suo ciclo di tre incontri fatto con noi allora per quanto riguarda il sesto anno discorso assisi abbiamo raggiunto ampiamente il numero quindi andiamo se qualcun altro volesse aggiungersi magari me lo chieda però attualmente siamo pieni quel pullman quindi chiederò al massimo all'agenzia di autonoleggio se ha un pullman più grosso se qualcuno fosse ancora interessato però siamo pieni siamo già al massimo della capienza sempre per il sesto anno nell'ultimo incontro che avremo vi darò tutte le indicazioni in merito per quanto riguarda padrini e madrini e così via anche se vi ho già fornito il modulo c'è già anche sul sito e così via qualcuno deve ancora consegnarmi però quando intende celebrarlo cioè se è il primo turno o il secondo turno e poi ancora chi sono o il padrino o la madrina e via dicendo e beh c'è ancora un po' di tempo però se ce la facciamo un pochino prima non arriviamo con l'acqua alla gola ricordo ancora che chi è battezzato fuori leno deve produrre i ragazzi padrini e madrini non mi servono nessun certificato di battesimo agli ragazzi chi è battezzato fuori leno deve produrre il certificato di battesimo della parrocchia dove è stato battezzato altra cosa l'ho accennata anche la scorsa volta e noi ora siamo arrivati in quasi in direttura d'arrivo io penso che adesso dico una parola che non dico quasi mai perché io non sono di questo linguaggio ma dovete dovete dare prova che si venga alla messa se no gamia senso gamia senso qui dico veramente cioè molti ragazzi non vengono mai e celebriamo i sacramenti fra un paio di mesi ma mai vengono qui dico bisogna dare prova te menti cosa ci stiamo raccontando ma anche loro che bellezza diciamo io se non entro in merito alla vostra partecipazione alla messa che poi poi c'è un discorso legato alla testimonianza all'esemplarietà ma ora non è altro in questo discorso poi sono tutti grandi e non devo richiamare nessuno ma loro che fanno una scelta caspita date prova rendete evidente che scegliere Cristo rende la vita bella altrimenti con il catechismo spostato poi alla più avanti si fa la prima comunione ma a volte in molti casi è la prima e l'ultima comunione eh sì è così settimo anno invece avete visto che abbiamo cominciato il discorso del tema della carità siamo andati in carita la settimana scorsa abbiamo fatto una bella esperienza adesso nei prossimi tuoi incontri faremo alcuni lavoretti che poi verranno destinati per raccogliere qualcosa per chi ha bisogno e vi darò farò avere i ragazzi la volta prossima un foglio sul quale verranno indicate le mete dove andremo a fare le uscite per l'ultima parte catechesi e arte e qui vi dico se qualcuno di voi fosse disponibile ad accompagnarci con la macchina perché noi andremo in giro in macchina sempre sapendo che faremo un percorso che parte due e mezza arriva a quattro e mezza cioè noi saremo comunque qui nelle due ore dell'incontro di catechesi massimo distanza che andiamo è Brescia o Cremona e ricordo che l'ultima tappa prevede catechesi e arte dove noi a partire dall'arte cerchiamo di cogliere alcuni come l'uomo ha voluto raccontare Dio attraverso l'esperienza dell'arte che può essere quella architettonica pittorica o musicale vi dicendo ok io non ho intanto da aggiungere a meno che avete qualcosa a chiedere voi per chi ha già ricevuto l'avviso oppure magari lo dico adesso domani celebriamo la quarantesima giornata in favore della vita abbiamo fatto un lavoro a catechismo con i ragazzi partiremo domani mattina anzi verremo qui 9 e mezza in oratorio così possiamo il nostro classico messaggio attaccare i palloncini andiamo in corteo in chiesa lasciamo poi i palloncini e ci siamo messa però i ragazzi hanno fatto dei lavori su questa tematica e li presenteremo li porteremo anche in corteo e via dicendo mi è sicurato di via dicendo un intercalare che però devo togliermi allora vi auguro buonanotte buona domenica e buon tutto ok e ringraziamo Giuseppe grazie ancora per la tua presenza per la tua testimonianza buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti